amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati appuntamento come ogni lunedì con i temi di politica internazionale presento subito i miei ospiti abbiamo in collegamento dall'iran anie tarkian docente di studi islamici osservatore di tematiche geopolitiche anie salve a tutti grazie salve a tutti e benvenuto giacomo gabellini ciao giacomo ciao carlo buongiorno a tutti e allora i temi sono tantissimi oggi molto importanti ovviamente il conflitto in ucraina tutto quello che ne consegue dopo vedremo il momento addirittura addirittura di boom economico in russia tanto che putin temi addirittura l'aumento l'aumento un forte aumento di prezzi ovviamente dovuti alla grande richiesta di beni parleremo ovviamente del conflitto israelo palestinese grazie al prezioso contributo di anni è ma direi giacomo che vale la pena iniziare oggi con le elezioni che si sono tenute la scorsa settimana in olanda che hanno visto la vittoria direi a sorpresa visto la crescita molto forte che ha avuto il partito della di ultradestra di gert wilders comunque una vittoria che era inaspettata solo alcune settimane addirittura non dico mesi ma alcune settimane alcune settimane prima no sì poi wilders ha fatto alcune alcuni show televisivi in cui è risultato molto convincente è riuscito ad avere la meglio sui sui suoi interlocutori e ancorando la sua la sua piattaforma elettorale su due due punti semplici ma chiave la lotta all'immigrazione e la distacco dell'olanda dalle politiche di stretta osservanza dall'unione a quelle imposte dall'unione europea quindi un partito euroscettico e dai tratti fortemente islamofobi peraltro che ha avuto un tuttavia una strada spianata dalle difficoltà che il paese ha riscontrato a partire dal 2022 col ricollocamento dei rifugiati ucraini quindi una cosa che con l'islam non ha esattamente molto a che fare perché quello quello islamico era un problema che una porzione dell'immigrazione di persone di fede musulmana il loro inserimento nella società era stato fortemente criticato e non accettato da una porzione della popolazione che era se costantemente oscillante tra il partito radicale di wilders e quello conservatore e abbiamo visto che la politica all'interno dell'unione europea specialmente all'interno del gruppo cosiddetto gruppo divise grande cioè paesi come l'ungheria la polonia si è andato verso una una politica di forte critica alle politiche migratorie adottate dall'unione europea e di recupero di una sovranità che è ritenuta limitata dal dall'aderenza ai dettami di bruxelles fondamentalmente la polonia è stata capofile da questo punto di vista assieme all'ungheria l'ungheria poi è stata inserita nel diciamo nel club dei cattivi per le sue politiche fortemente discordanti rispetto al conflitto russo ucraino mentre invece la polonia perché per aver ottemperato fin dalla prima ora alle richiede alla posizione a essersi allineata la posizione europea e anzi statunitense invece è stata impendentamente depennata da questa lista proprio in funzione di contrasto alla russia e l'opposizione di builders qua sostanzialmente a legarsi a quelle sposate dal gruppo divise grande su tutto il fronte fuorché quello della del conflitto con la russia ovviamente è una politica comunque che potremmo definire più isolazionista e che punta a scardinare un po quello che è la l'assetto che ha portato l'olanda ad imporsi come uno dei principali paesi come potere come potere decisionale insieno potere decisionale e rappresentanza insieme all'unione europea abbiamo visto che l'unione europea è stata un popola portavoce degli interessi tedeschi e dei paesi gravitanti attorno all'orbita tedesca quindi lussemburgo olanda belgio fondamentalmente e tuttavia il partito di builders punta a smantellare questo questo genere di politica recuperare una sovranità piena e soprattutto concentrarsi sulla lotta all'immigrazione e che con particolare riferimento a quella di carattere musulmano è un vento che spira in tutta europa questo va detto e che non ha lasciato l'olanda fuori essenzialmente quindi in olanda si registrano le stesse tendenze verificatisi per esempio anche in seno alla stessa germania con l'affermazione di alternative fund oisland che promuove posizioni direi speculari quindi è tutto un vecchio continente che va in una direzione ben precisa direzione senti e giacomo e direi che è bene notare che forse il principale candidato in germania era quel franz timmermans no già vicepresidente della commissione europea e commissario europeo per il clima e la transizione verde proprio in europa no un come possiamo dire un un estremista no in questo senso in olanda non in germania sì 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 esattamente ma è proprio quello cioè si si sconta si registra un forte ridimensionamento di queste posizioni cioè gli euro i filo europei potremmo definirli stanno riscontrando crescenti difficoltà continuano ad avere in mano le chiavi della politica economica europea questo è un dato di fatto ma sono messe in costante increscente discussione la loro egemonia proprio da queste forze che puntano a un quanto meno a ridisegnare gli equilibri dell'unione europea se non a procedere a un suo smantellamento to court diciamo che sono un po le solite posizioni che potremmo definire populiste forse un termine che non mi piace però e sono quelle quel genere di forze politiche che si riconoscono in questo genere di progetti decostruttivi ma che in generale hanno ben poco da offrire in termini propositivi sì quando si tratta poi di venire al dunque adottare delle politiche abbiamo visto tutti poi fino adesso tutti politici cosiddetti le forze politiche cosiddette populiste non deviare un millimetro dalle politiche che erano preesistenti e quindi le hanno tradotte in essere l'italia proprio fa è un caso paradigmatico sotto questo profilo certo e ci torneremo ancora fra poco ma voglio sentire il parere di anni e su queste su queste elezioni in germania e in scusa in olanda poi dalla da lontano si vedono le dinamiche forse si vedono meglio no perché si ha più una visione diciamo complessiva tra l'altro appunto questa questo approccio e questa mentalità diciamo con anti islamica della di questa ultradesta di gert wilders prego sì diciamo che come risultato delle elezioni secondo me non dovrebbe sorprenderci perché comunque è una cosa abbastanza naturale l'abbiamo visto anche in italia insomma abbiamo un partito praticamente di destra anche se secondo me non so al giorno d'oggi quanto abbia ancora senso parlare di destra sinistra estremo destra eccetera però questo è un discorso è un altro discorso però ecco diciamo che eh questo dimostra il il fallimento alla fine della di determinate politiche eh imposte dall'unione europea soprattutto quelle che riguardano eh la 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 questione migratoria eh la l'incapacità di di gestire proprio il volere un un'ondata eh migratoria praticamente ingestibile quindi cioè alla fine eh è questo è questo che vogliono quindi creare problemi anche a livello eh sociale no il famoso conflitto fra eh fra poveri diremmo fra fra la gente comune conflitto orizzontale esatto esatto quindi eh e quindi il fatto che comunque ci siano partiti ehm pseudo sovranisti perché poi dovremo vedere se veramente eh metteranno in pratica insomma quali che erano i loro slogan perché insomma noi qua in italia abbiamo visto che un partito teoricamente sovranista come quello di Fratelli d'Italia alla fine in realtà si è completamente eh appiattito alle politiche eh che c'erano prima quindi non è che sia cambiato neanche per quanto riguarda la questione migratoria praticamente non è cambiato assolutamente niente anzi forse ancora anche peggio eh quindi insomma il risultato di queste elezioni non non ci sorprende e ehm è una è un aspetto insomma che era abbastanza eh prevedibile poi come dicevo ehm bisogna vedere ecco nella pratica come eh come se si riusciranno veramente poi insomma a mettere eh a mettere in pratica le le promesse a livello eh elettorale eccetera soprattutto per quanto riguarda la questione migratoria però eh ci tenevo a sottolineare una curiosità che secondo me era una cosa abbastanza interessante il fatto che uno dei eh collaboratori eh di ehm di Wilders eh Joram von Claferen che praticamente è stato uno dei 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 suoi collaboratori più stretti fino a tre o quattro anni fa ehm e ehm soprattutto sulla questione appunto ehm perché questo partito è un partito eh come è stato sottolineato da Giaco un partito praticamente islamofobo eh e ehm questa persona praticamente voleva scrivere un libro eh contro l'Islam solo che nello scrivere questo libro alla fine eh eh si è praticamente si è convertito quindi ha esattamente ottenuto il risultato opposto e e adesso peraltro è uno diciamo degli oppositori principali di eh di Wilders in in Olanda se voi andate a vedere il suo profilo eh su su Twitter o su X come come viene chiamato adesso ehm lo prende anche in giro quindi eh insomma era questa era una curiosità che ehm mi piaceva ecco sottolineare. Molto molto curiosa eh i paradossi i paradossi veramente dell'esistenza umana. Giacomo secondo te con questa vittoria eh netta di Gert Wilders a Bruxelles è scattato un po' un campanello d'allarme. Sì perché quando in finché vincono diciamo nel gruppo di Visegrad danno fastidio ma la cosa è gestibile. Quando queste forze cominciano ad emergere in seno a paesi di stazza di peso superiore e uno dei quali compri appunto l'Olanda eh fortemente detiene una capacità di condizionamento sulle politiche europee piuttosto notevole e sì i campanelli cominciano a risuonare però eh eh questa è una tornata storica eh che molto difficilmente si riuscirà ad arginare con i soliti metodi e quindi o si fornisce fornisce risposta concreta alle esigenze e alle istanze delle popolazioni oppure queste tendenze continueranno non solo a verificarsi ma inaspirsi e non è non è affatto un bel segnale che ehm in questo clima eh tutt'altro che eh positivo proliferino i tentativi di orizzontalizzare lo scontro quindi mantenere sempre lo scontro a livello di guerra tra poveri come diceva Nia sono perfettamente d'accordo e mai verticalizzarlo cioè quindi trasformarlo in una rivendicazione di carattere per esempio salariale o comunque mirata all'ottenimento della tutela dei diritti collettivi senza i quali ha ben poco senso la vita sociale e per come perlomeno abbiamo intesa noi in Europa quindi per un verso è allarmante per l'altro fa comodo e quindi è come una sorta di non so come in un termine che mi piace poco gatekeeper cioè il fatto di mantenere comunque lo scontro all'interno di certi confini evitare che tracimi e che porti eh produca delle conseguenze inaspettate eh soprattutto per quanto concerne la la struttura all'andazzo in materia di politica economica e di politica estera dell'Unione Europea. Sì ecco tra l'altro ehm la vittoria di Wilders dell'ultradestra è proprio il tassello fondamentale è stato quello dell'immigrazione no? Mentre c'è dobbiamo notare che il presidente del Kenya ha annunciato l'intenzione di esportare invece mano d'opera in Germania no? Sì. Ehm ha promesso Scholz ha promesso alla leader kenyota eh 200.000 posti di lavoro per i keniani questo è un dato riportato dalla BBC molto interessante questo no? Eh ma è molto interessante proprio perché spiega come questi personaggi intendono risolvere i problemi di competitività che i paesi in cui paesi europei sono piombati per effetto delle sanzioni nella Russia che sono sanzioni più contro l'Unione Europea che contro la Russia per giudicare dagli effetti che stanno producendo come anticipato anche tu nell'incipit di questa puntata. Quindi cosa si fa? A fronte di costi input energetici raddoppiati o triplicati dopo le sanzioni dopo la recisione dell'arteria eh energetica con la Russia si cerca di eh recuperare la competitività competitività perduta comprimendo i salari e quindi importando mano d'opera a basso costo dall'estero per anche qui mantenere orizzontale lo scontro mantenere inalterata la pressione sui salari degli dei lavoratori autotoni e questa è la consolidata ricetta a cui siamo abituati. Prima un po' con gli ucraini si è si è ottenuto questo risultato perché gli ucraini da mantenere in pianta stabile eh e da integrare quindi nelle società europee serve esattamente a quello e non certo per considerazione di carattere cosiddetto umanitario che sono più pelose che mai in realtà e quindi se il piatto è servito insomma un poco con tutto ciò che ne consiglio in termini anche di impatto sulla società perché l'importazione massiccia di tutte quelle persone tutte in una volta e naturalmente produce degli effetti piuttosto devastanti in un'ottica anche di preservazione della eh diciamo della della stabilità sociale. Ne sanno qualcosa in Scandinavia dove la patria del politicamente corretto in nome di proprio di questi di questa loro predisposizione hanno importato persone decine di migliaia tutte in una volta di presunti rifugiati eccetera che non hanno non avevano nemmeno intenzione di integrarsi e ci sono sono tutto questo si è di dei reati poi reati di un certo genere e da cui poi è conseguito un incremento anch'esso quasi proporzionale delle richieste per il porto d'armi e quindi ecco quando non ci sono le cose non vengono fatte con un criterio e non si tiene in considerazione tutto il quadro d'insieme le ricadute poi sono quelle. I cittadini cominciano ad arrangiarsi per conto per conto loro. Aniei tu che tra l'altro vivi in in Italia da e da molti anni che trascori lunghissimi periodi in Italia quindi la realtà italiana la conosci bene parli parli di italiano come come noi assolutamente ehm però voglio dire essendo anche spesso in in Iran hai come dicevo prima anche una visione da da lontano e quindi una visione molto nitida no? Cosa cosa pensi di questa di questa notizia eh della del Kenya che eh promette 200 mila eh l'invio di di 200 mila eh cittadini insomma? Beh io cioè io penso che sia una cosa molto pericolosa sia per quanto riguarda l'Europa che per la lo stesso eh lo stesso paese africano per lo stesso Kenya perché eh cioè queste politiche eh immigratorie senza criteri senza che alla fine hanno solo hanno solo hanno solo scopi di sfruttamento perché diciamocelo chiaro alla fine chi viene da un paese più povero è disposto prima di tutto a lavorare a basso costo quindi un salario inferiore eh in condizioni eh diciamo così che magari non sono neanche standard eh da un punto di vista di quelli che sono insomma i criteri europei si accontenta eh da un punto di vista sociale eh di eh un livello di vita basso e quindi chiaramente questo col passare del tempo diminuisce il ehm diciamo il livello eh di di benessere eh generale di tutti perché quando le le aspettative eh incominciano a diminuire per parte della popolazione alla fine questo diventa eh comune fra tutti quindi ehm prima di tutto c'è appunto questo problema si crea questo problema problema di eh mano d'opera a basso costo quindi persone disposte a eh a lavorare eh per un un salario veramente a volte insignificante in condizioni eh pessime e questo eh peggiora la situazione di tutti i lavoratori a lungo andare ma inoltre anche il fatto che comunque eh diciamo ehm un gran numero di persone che vengono sradicate da quella che è da quello che è il loro paese da quello che è eh la loro cultura eh che crea anche dei problemi per loro perché poi per le nuove generazioni per i figli eh per quelli che verranno dopo anche per loro sarà ci saranno tutta una serie di di problemi che che insomma lo abbiamo visto eh lo vediamo oggi in in paesi come la Francia come la Germania come eh l'Inghilterra che hanno una storia dell'immigrazione eh diciamo più ehm più vecchia della nostra eh in Italia e abbiamo visto quali sono le conseguenze eh quindi eh purtroppo queste queste politiche sono molto pericolose ma come dicevo prima non solo per eh l'Europa per i popoli europei ma anche per eh quei popoli che appunto vengono sradicati eh dalla da quella che è la loro identità culturale nazionale eccetera vengono portati eh in in un altro luogo con la promessa di una vita migliore quando molto spesso non è neanche così in realtà. Certo è chiarissima la la tua disamina. Direi che per questo primo eh argomento del nostro appuntamento del lunedì lo possiamo eh chiudere eh qui naturalmente ci torneremo eh quanto prima su queste tematiche io adesso passerei al conflitto russo-ucraino eh descrivendo soprattutto la situazione in Ucraina c'è una eh affermazione molto interessante di un ex deputato del Parlamento ucraino eh Giacomo eh Oleg Saraf che dice Zelensky ha paura che venga organizzato un colpo di Stato e che lo facciano fuori ehm c'è eh come la ritieni queste affermazioni? Eh lo ritengo alquanto verosimile perché non ce l'abbiamo molto molto modestamente ce l'avevamo arrivati anche noi settimane addietro perché quando cominciano quando la nave comincia insomma ad inabissarsi eh sono tutti pronti a saltare dal carro perdente e eh gli segnali sono questi perché eh già con la la decisione la richiesta dei repubblicani al congresso di eh dividere il pacchetto il pacchetto d'aiuti a Israele eh Ucraina e il rafforzamento del per la lotta all'immigrazione illegale quindi lungo il confine con Messico che i l'amministrazione Biden intendeva sottoporre il congresso come pacchetto unico i i repubblicani hanno preteso il frazionamento di questo pacchetto in tre voti distinti proprio per votare per permettere ai eh i rappresentanti ai congressisti di votare separatamente per il finanziamento del dello sforzo eh del sostegno all'Ucraina sostanzialmente quello Israele e quello per il potenziamento della lotta all'immigrazione illegale questo segnala che c'è una crescente eh disaffezione nei nei confronti dell'Ucraina e a a cui fra l'altro fa corrisponde una una propensione piuttosto accentuata stando a quanto emerge dai dai rapporti di alcuni quotidiani statunitensi come il New York Times Washington Post eh della dell'amministrazione Biden di esercitare pressioni su eh la leadership ucraina affinché in tavoli trattative serie mirate al raggiungimento di un accordo di pace con la Russia. La stessa Russia per bocca di Putin in India ha dichiarato che sarebbe ora di cominciare a parlare di porre fine a questo conflitto. Il problema è che eh nella costituzione ucraina non è previsto assolutamente eh la possibilità di trattare fino a che l'ulti finché i russi non siano non siano si siano ritirati dall'ultimo remoto angolo della Crimea e non è esattamente questo il caso e lo stesso la stessa leadership ucraina incarnata da Zelensky non si presta assolutamente a questo scopo e qui potrebbe essere maturata all'interno delle degli apparati burocratici del cosiddetto stato profondo ucraino delle forze armate eh della politica degli oligarchi ucraini l'idea di eh togliere di mezzo eliminare Zelensky e magari insediare in sua sostituzione un personaggio maggiormente adatto allo scopo di intavolare questa trattativa che sarebbe nelle intenzioni degli degli Stati Uniti da cui l'Ucraina dipende in tutto e per tutto o meglio quel che rimane dell'Ucraina perché e questo secondo me rende colore anche di tinte ridicole quel cosiddetto piano che sarebbe trapelato alla Bild un giornale tedesco piuttosto diffuso eh secondo cui Scholz e Biden avrebbero elaborato un piano per porre fine al conflitto che contemplerebbe proprio la il fatto di obbligare Zelensky a trattare a trattare e anche a costo di accettare pesanti cessioni concessioni alla Russia e in alternativa spiega la Bild l'idea è quella di puntare qualora Zelensky non non accettasse l'idea sarebbe quella di procedere perso un congelamento di questo conflitto non si capisce bene come cioè qui si fanno tutti i conti senza l'oste perché tutte queste eh valutazioni che si fanno non tengono conto del della situazione sul campo di battaglia che poi è l'unica che conta per cui adatto allo stato attuale la Russia non conviene affatto accettare queste queste questa presunta questo presunto cessate il fuoco in vista di un accomodamento poi congelamento del conflitto a quali condizioni? Cioè la Russia ormai è evidente a tutti e lo dimostrano anche cioè piplasticamente di così le uscite di Valery Zaluzny comandante in capo delle forze armate ucraine rese all'Economist in cui parlava di in cui ha compilato una lunga lista del della spesa sostanzialmente in cui si cui si parlava che del fatto che nel caso in cui in caso di mancata consegna all'Ucraina di tutto questo materiale di cui abbiamo forte bisogno il verdetto del campo di battaglia è segnato siccome non c'è la possibilità di rifornire all'Ucraina di tutto ciò che Zaluzny ha fatto fatto presente e mi pare che e questo i russi lo sanno credo che punteranno diritti verso l'ottenimento del risultato finale che è la capitolazione dell'Ucraina senza condizioni presumibilmente e non rivedrà assolutamente l'Ucraina quei quattro oblast che la Russia ha englobato nella propria federazione cioè degli oblast di Donetsk di Lugansk di Zaporizia di Kherson quelli sono persi definitivamente e forse potrebbero anche essere persi altri oblast mi riferisco a Kharkov e a quello soprattutto di Odessa che è l'ultimo nello mancante l'unica sbocco al mare che ormai ha l'Ucraina senza quell'oblast Ucraina come stato proprio non avrebbe nemmeno senso da un punto di vista proprio geografico quindi si profilano tempi piuttosto bui per l'Ucraina. Senti Giacomo una exit strategy anche per gli Stati Uniti potrebbero essere le elezioni in Ucraina dove verosimilmente direi inevitabilmente non verrebbe rieletto Zelensky quindi il personaggio a questo punto il vero problema della situazione a questo punto no Zelensky? Sì potrebbero essere ma è molto più verosimili a un colpo di Stato molto più economico molto più rapido e molto più funzionale perché io sono stra sicuro che come avevano già pronto il candidato sostitutivo di Yanukovych nel 2014 quando c'era stata Euromaidan già ce l'avevano la telefonata intercettata di Victoria Nuland con l'ambasciatore statunitense a Kiev Geoffrey Piat era emblematica parlava proprio di Yatsenyuk come primo ministro ucraino del governo di Interim che poi esattamente quello che si è insediato quindi credo che anche in questa fase abbiano già pronto la lista dei personaggi da indicare per il dopo Zelensky e con il caso in cui la situazione dovesse farsi particolarmente critica credo non credo proprio considerando anche i precedenti storici che gli Stati Uniti esiterebbero nel far leva su questi su questi ambienti su cui hanno puntato affinché rimuovano in un modo o nell'altro l'attuale leadership ucraina e insediano personaggi maggiormente confacenti allo scopo. Sì non non importa qual è il metodo l'importante è il risultato finale e il metodo più efficace. Anie Tarchian? Sì ma in realtà sappiamo bene che comunque fin dall'inizio questo conflitto in Ucraina era una guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia con secondo me due scopi principali. Il primo quello di interrompere e ostacolare qualsiasi tipo di legave commerciale, culturale eccetera fra Europa e Russia e il secondo quello di indebolire da un punto di vista economico l'Europa e secondo me gli Stati Uniti questi due obiettivi almeno a breve termine possiamo dire che li abbiano raggiunti. Teniamo anche presente che gli Stati Uniti si stanno preparando per le elezioni del 2024 e adesso sono in difficoltà sia sul campo appunto per quanto riguarda il sostegno al conflitto in Ucraina sia per quanto riguarda il conflitto tra Israele e Palestina. Quindi sono diciamo due situazioni che da un punto di vista dell'opinione pubblica statunitense in particolare diciamo quelli che sono i sostenitori del partito democratico che di solito sono più per la pace anche se sappiamo che comunque è sempre una pace falsa eccetera però non vedono molto bene i conflitti quindi se diciamo se i democratici vogliono vincere le elezioni devono chiaramente mettere fine in qualche modo a questi due conflitti in particolare quello in Ucraina ecco. Poi considerato come dicevo che i due obiettivi principali che si erano posti secondo me più o meno li hanno raggiunti. Almeno dicevi nel breve periodo quantomeno nel breve periodo ecco non come dire non dai per scontato nel medio e nel lungo periodo che questi che questi obiettivi rimangano rimangano perseguiti. Senti Giacomo l'avevamo accennato prima dunque nonostante tutto gli sforzi da due anni a questa parte dell'Occidente con le sanzioni non ha prodotto risultati sull'economia russa perché i dati dicono di un'economia in forte crescita con un rischio addirittura di inflazione da domanda non dico da eccesso di domanda ma quasi insomma. Sì da Mundi al Fondo Monetario Internazionale alla Banca Mondiale all'Unione Europea si hanno dovuto tutti riconoscere che la capacità di adattamento dell'economia russa al regime sanzionatorio è stato più rapido e più efficace di quanto loro avevano preventivato. Se si pensa che Gianni T.Ellen circa qualche settimana dopo lo scoppio del conflitto e l'erogazione delle sanzioni nei confronti della Russia aveva dichiarato che queste misure avrebbero devastato l'economia russa e il rublo non è andata esattamente così. L'economia europea hanno avuto pesanti contraccolpi giganteschi da un punto di vista dei costi degli input energetici a partire da quello innanzitutto ma non soltanto perché chiaramente la distruzione dei rapporti a tutto tondo anche culturali non vanno sottovalutati. Con la Russia produrrà degli effetti di lungo periodo molto pesanti questo è un dato di fatto incontestabile viceversa la Russia ha riorientato il proprio import e il proprio export attraverso varie triangolazioni riuscite ad approvvigionarsi di ciò di cui aveva bisogno e a far arrivare le proprie merci all'Occidente che comunque le ha pagate molto di più per effetto della cresta che molti paesi facevano su queste forniture parlo della Turchia anzitutto ma anche dell'India e di altri paesi come tutti quelli dell'Asia centrale per esempio il Kyrgyzstan ha incrementato il proprio import di beni tedeschi cioè l'interscambio tra il Kyrgyzstan e la Germania è aumentato del 5.000% non avevo mai sentito percentuali di qualsiasi genere di qualsiasi genere quindi si capisce benissimo 5.000 volte agli Emirati, gli Emirati Arabi Uniti fanno queste cose addirittura l'Arabia Saudita importava petrolio russo cioè siamo a dei livelli proprio sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere insomma questo è lo stato dell'arte viceversa l'economia russa è riuscita da un lato a riorientare il proprio commercio estero e a fare una cosa molto più profonda di significato più profondo che l'avevo accennato l'altro lo scorso appuntata cioè ha riconfigurato la propria struttura economica centrandola maggiormente sull'industria e sulla capacità di fornire, di soddisfare la domanda interna attraverso la produzione autotona per l'appunto quindi è un... quello si vede fra l'altro nel conflitto russo-ucraino che la guerra è il test dei test per lo stato di un'economia e la Russia sostanzialmente con le proprie forze è riuscita a reggere da sola l'urto anche economico dell'Occidente e sfornare e mettere insieme una capacità produttiva assolutamente irraggiungibile per l'Occidente combinato addirittura e lo si vede nella capacità per esempio di fabbricare sistemi d'arma, munizioni eccetera 60.000 proiettili d'artiglieria esporati in alcuni periodi in appena un giorno a fronte dei 10-12.000 ucraini quindi questo la dice lunga di come la Russia si è riuscita a riconfigurare stia riuscendo a riconfigurare la propria struttura produttiva e questo rappresenta una sfida secondo me esistenziale per la stessa alleanza atlantica perché non qui si parla di obiettivi raggiunti dalla Nato che se ne sono soprattutto tattici quali il taglio dell'arteria energetica con la Russia la sostituzione qui non è tanto Nato quanto Stati Uniti ma forse è la stessa cosa la Nato è il vestito che gli Stati Uniti indossano quando devono dare una parvenza di multeralità ai propri interessi esclusivi fondamentalmente la sostituzione degli approvvigionamenti russi con quelli statunitensi quello è un altro vantaggio l'inclusione all'interno della Nato di Svezia e Finlandia altro in dubbio vantaggio altro risultato conseguito ma nel caso in cui come sembra proprio la Russia con le proprie forze sta tenendo testa da un punto di vista sia militare che economico all'Alleanza Atlantica nel suo complesso questo comporta un danno di immagine proprio un discredito e un'incrinatura della propria deterrenza a livello mondiale cioè la Nato non sembra più invincibile come era percepita dal resto del mondo soltanto fino a ieri e questo ha tutta una serie di conseguenze di carattere politico economico militare fortissima che avranno un impatto enorme in ottica di medio e lungo periodo Sì e adesso arriviamo al conflitto israelo-palestinese ma volevo valutarlo tramite la posizione della Russia di cui abbiamo parlato fino ad ora in questi ultimi interventi perché volevo sentire da te Aniel la posizione che ha la Russia in merito al conflitto israelo-palestinese al G20 Putin si domandava domandava rivolto agli altri interlocutori e gli altri partecipanti perché i leader mondiali non sono scioccati dal numero enorme di bambini morti a Gaza e poi questo la settimana scorsa e sempre la settimana scorsa al vertice straordinario dei BRICS Putin ha definito il sacro dovere della Russia verso Gaza Sì sicuramente questo conflitto tra Israele e Palestina in considerazione di quello che è la transizione verso il nuovo ordine multipolare ci sta mostrando delle prese di posizione interessanti perché comunque la Russia in passato sul conflitto aveva una posizione più moderata invece come hai accennato tu in questo caso stiamo vedendo invece delle prese di posizione delle affermazioni anche abbastanza pesanti e poi anche più volte è stato sottolineato dalla Russia la necessità di fondare e di stabilire un governo palestinese veramente indipendente e sovrano perché al momento un governo palestinese che sia veramente indipendente sovrano non esiste chiaramente altrimenti non ci sarebbero i problemi che ci sono adesso quindi secondo me questo mostra che a livello globale gli equilibri stanno cambiando in vista appunto di quello che è il nuovo ordine multipolare e la Russia ha un ruolo molto importante tra l'altro è interessante il fatto che proprio durante questo cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri ci siano stati dei negoziati diretti tra la Russia e Hamas per liberare una se non sbaglio era una prigioniera però non sono sicura non so se era una prigioniera o un prigioniero di cittadinanza russa quindi un negoziato diretto quindi non attraverso Israele questo potrebbe sembrare poco importante però prima di tutto dimostra che ci sono diciamo così dei legami diplomatici diretti fra la Russia e il movimento di resistenza Hamas e questo è importante perché ci fa capire che Hamas in realtà come organizzazione è considerato un'organizzazione terroristica solo dai paesi occidentali mentre invece un paese come la Russia invece ha legami diretti anzi ci sono state anche delle delegazioni di Hamas che nell'ultimo anno almeno due volte si sono recati a Mosca e questo è importante da capire e quindi e come dicevo prima la Russia ha quindi una posizione non più così moderata nei confronti di Israele ma cerca chiaramente la soluzione diplomatica quindi è stato accolto bene il fatto che si sia appunto arrivati a un cessate il fuoco e sicuramente questo verrà incoraggiato a livello anche regionale perché comunque anche paesi come come l'Iran come il Qatar che sono i principali sostenitori della causa palestinese hanno già più volte affermato che il cessate il fuoco deve essere rinnovato e bisogna evitare che diciamo il conflitto riprenda come prima e e questo anche questo è importante da sottolineare perché ci fa capire come i paesi importanti per il nuovo ordine multipolare come appunto la Russia come l'Iran come anche la Cina perché comunque anche la Cina ha sottolineato l'importanza di stabilire un governo palestinese indipendente sovrano stanno avendo un ruolo molto più importante nella risoluzione di questo conflitto e non cercano l'escalation come invece lo cerca per esempio gli Stati Uniti anche se poi magari lo spiegherò più avanti gli Stati Uniti in questo momento forse stanno un po' rivedendo la loro posizione sulla sulla questione israeliana anche perché come dicevo prima c'è comunque il problema delle elezioni che sono vicine certo Giacomo ha toccato tanti punti Lanier in questo suo disamina quanto a Mass sono perfettamente verissimo la Mass è un movimento di resistenza che si avvale di metodi terroristici era così l'OLP era così tanti altri movimenti gli stessi partigiani italiani a volte hanno fatto delle cose che rasentavano anche se in realtà era diretto contro militari ma comunque poco cambia il fatto è che questi conducono una battaglia di liberazione nazionale possa piacere o meno e hanno un appoggio di una parte consistente della popolazione questo è un dato inaggirabile ed è con quelli che bisogna bisogna trattare poi anche questa questa tendenza un po' anche chiesa pelosissima di parlare di inquadrare come terrorismo tutto ciò che non piace e invece minimizzare quando il terrorismo per esempio è di Stato perché io faccio fatica a non parlare di terrorismo di Stato quando vedo che vengono riversate nella prima settimana di bombardamenti di Israele su Gaza 7000 bombe in un'area così densamente popolata poi fra l'altro svuotano ordine di evacuazione di un milione di persone in 24 ore che devono ammarsarsi da nord verso sud della striscia poi anche lì proseguono i bombardamenti uno storico uno specialista della Shoah storico israeliano Omer Bartov sul New York Times ha parlato di intenzioni genocide nella leadership israeliana ma che non sono neanche poi io forse non mi spingerei a tanto perché alla fine per chi altro a loro interessa liberarsi in un modo o nell'altro della presenza palestinese da quelle zone quindi credo che e lo dicono non hanno più o meno hanno abbandonato ogni remora tempo fa l'ex direttore l'ex vice direttore del Mossad alla televisione israeliana ha parlato proprio di ricollocamento di qualche di tutti i palestinesi di Gaza che potrebbero essere distribuiti in una cinquantina dei paesi ciascuno ne prende diecimila chi ventimila chi trentamila il problema sarebbe risolto sono posizioni che emergono di tanto in tanto quindi non è non è un figlio segreto per nessuno e questo questo mette in difficoltà indubbiamente gli Stati Uniti perché per un verso hanno una lobby israeliana interna potentissima che è molto presente nella finanza nei media nella produzione cinematografica per esempio e che fa sentire il suo peso condiziona molto le politiche medio orientali degli Stati Uniti e questo si traduce in appoggio spesso incondizionato Israele come quello che sta accadendo peraltro come è accaduto anzi perché adesso è cominciato a cambiare qualcosa sono d'accordo perché comunque questo genere di atteggiamento scava una fossa anzi allarga il fossato tra l'occidente e il resto del mondo e questo va tutto a vantaggio della Cina e della Russia che si spiega per esempio contribuisce a spiegarle presupposizioni tanto della Cina quanto della Russia che si muovono all'unisono su questa vicenda come su un'altra serie di questioni chiaramente prendendo la Cina che dichiara apertamente che Israele è andato molto oltre il diritto all'autodifesa la Russia che prima accoglie la delegazione di Hamas poi Putin parla apertamente della soluzione a due stati come unica soluzione al problema condanna l'operato di Israele nella striscia di Gaza e successivamente il rappresentante russo alle Nazioni Unite dice che in realtà questo diritto all'autodifesa che Israele continua a invocare non si applica nei territori occupati quindi insomma c'è una tutta una serie di presi di posizione da parte di questi due paesi che mirano ad accrescere la reputazione che Cina e Russia hanno agli occhi del cosiddetto sud globale sul globale che come dicevo prima si sta distaccando sempre di più dagli Stati Uniti e sono anche per effetto di presi di posizione come un appoggio a critico a Israele in questa fase che stando ad alcune indiscrezioni peraltro sarebbe alla base di una sorta di ammutinamento interno al Dipartimento di Stato che proprio contestava il fatto che questo genere di politica avrebbe inimicato agli Stati Uniti in favore del cosiddetto sud del mondo quindi insomma un ex ambasciatore diplomatico statunitense di carriera ormai in pensione l'ho sentito l'altro giorno dichiarare che la Cina sta dimostrando agli Stati Uniti come si fa la diplomazia e non lo sta dimostrando soltanto agli Stati Uniti lo sta dimostrando un po' a tutto il mondo e quindi è questo la posta in gioco mi pare che sia quella certo e ormai la percezione comincia a cambiare di chi sta facendo diplomazia e chi no si sta ribaltando un po' la percezione storica delle popolazioni Aniei dall'Iran come vedete la posizione di Israele ma sicuramente indebolita fortemente indebolita questo dal praticamente dal 7 ottobre cioè già da prima in realtà c'erano comunque divergenze interne all'interno di Israele questo chiaramente ha indebolito lo Stato israeliano però diciamo che da quando c'è stata questa operazione delle forze di resistenza dal 7 ottobre in poi si sono rivelate tutti quelli che sono i vari punti deboli dello Stato israeliano e poi questo cessato il fuoco viene visto dall'Iran dagli analisti iraniani una vittoria per le forze di resistenza palestinese questo per una serie di motivi il primo motivo è che comunque questa operazione delle forze di resistenza palestinesi ha fatto in modo che la questione palestinese venisse di nuovo considerata dall'opinione pubblica perché purtroppo la questione palestinese praticamente era stata dimenticata anche dalla cosiddetta comunità internazionale eccetera il fatto che Israele non abbia ottenuto nessun successo strategico sul campo anzi interessante il fatto che i luoghi dove praticamente sono stati consegnati i prigionieri israeliani da parte delle forze di Hamas sono praticamente zone di Gaza che l'esercito israeliano sosteneva di avere sotto controllo invece a un certo punto si vedono le forze della resistenza di Hamas che arrivano che portano i prigionieri e peraltro Netanyahu più volte aveva detto che non ci sarebbe stato nessun cessato il fuoco fino al completo annientamento di Hamas invece alla fine hanno dovuto cedere alle condizioni delle forze della resistenza palestinesi condizioni che peraltro vanno comunque a vantaggio perché abbiamo uno scambio cioè per ogni praticamente prigioniero israeliano devono essere liberati tre o anche a volte quattro palestinesi quindi diciamo a vantaggio appunto della resistenza palestinese e questo sta aumentando quella che è la divergenza interna che c'è all'interno dei vari gruppi politici israeliani sicuramente quando questo diciamo questo stadio del conflitto terminerà perché purtroppo non credo che si arriverà a una soluzione a breve termine però sarà sicuramente la fine politica di Netanyahu su questo non penso che ci siano non ci siano non ci siano dubbi poi anche perché comunque tutto quello che Israele ha fatto in questi circa 50 giorni nel appunto questa aggressione contro Gaza l'ha fatto con il pieno sostegno degli Stati Uniti quindi i crimini che ha commesso è riuscito a farli sia grazie al sostegno militare anche propagandistico se vogliamo definirlo in questo modo degli Stati Uniti tuttavia non avendo ottenuto come dicevo nessuna vittoria strategica ed essendo appunto gli Stati Uniti vicino alle elezioni non so fino a che punto gli Stati Uniti saranno ancora disposti a sostenere Israele in un'eventuale continuazione del conflitto io penso che molto probabilmente questo cessato del fuoco si rinnoverà per probabilmente altre due o tre volte si entrerà probabilmente in una fase del conflitto diciamo dove non c'è una vera e propria pace ma non c'è neanche un vero e proprio scontro armato magari solo diciamo magari limitato e però appunto considerato il fatto che l'esercito israeliano è comunque veramente poco motivato a portare avanti il conflitto perché non è l'esercito israeliano non è un esercito preparato per una una guerra lunga e soprattutto non può sostenere quella che è la strategia del logoramento che è stata usata dalle forze di resistenza palestinesi con l'aiuto anche di di Hezbollah e degli altri gruppi della resistenza dall'esterno che comunque hanno fatto pressione sull'esercito israeliano quindi l'esercito israeliano non può sostenere un conflitto di questo tipo a diciamo a lungo termine e probabilmente diminuirà come dicevo il sostegno degli Stati Uniti quindi l'esercito israeliano sarà costretto in qualche modo a ritirarsi da Gaza oppure può anche darsi che le forze di resistenza palestinesi facciano un'altra operazione che costringa anche in quel caso l'esercito a ritirarsi dalla striscia di Gaza io penso che molto probabilmente ci sarà uno sviluppo di questo tipo nelle prossime settimane ovviamente non è mai esclusa l'escalation perché comunque sappiamo bene che è una zona dove ci sono molti attriti insomma la zona medio orientale però ecco diciamo che considerate la situazione che c'è adesso penso ecco una previsione si può si possa fare una previsione di questo tipo sì Giacomo ci stiamo avvicinando alla conclusione ecco in sintesi quale pensi sia lo scenario più probabile beh credo che è un po' difficile Israele abbia cercato di ricostruire la propria deterrenza anzitutto che era risultata fortemente danneggiata da a dir poco sballorditiva se non sospetta inadeguatezza mostrata il 7 ottobre qui si parla di di elicotteri che hanno aperto il fuoco sui direttamente sui cittadini elicotteri dell'esercito israeliano che non riuscivano a distinguere non sapevano cosa fare non avevano ordini hanno aperto il fuoco proprio sui cittadini israeliani molti sarebbero morti per fuoco amico non è ci sono Arez ha fatto reportaggi numerevoli su questa vicenda e non a caso Arez adesso ci sono pressioni per farlo chiudere da parte del governo israeliano che anche questo dà un po' l'idea di quanta confusione regni all'interno del governo israeliano e il senso di disorientamento e soprattutto di mancanza di senso del limite delle proporzioni e dell'impatto devastante che l'operato israeliano sta portando sulla reputazione del paese anche in termini di compromissione dei buoni risultati oggettivamente che Israele è riuscito a conseguire negli anni passati dagli accordi di Abramo questa cosa adesso probabilmente per lo meno per un certo periodo andrà in fumo abbiamo visto il Bahrain che ha ritirato l'ambasciatore abbiamo visto che anche lo stesso Marocco che fosse il più filo israeliano assieme alla Giordania dei paesi arabi ha preso delle posizioni molto nette quindi insomma per Israele non la vedo benissima è una società molto divisa è una società che si è radicalizzata per un verso perché questo governo non è l'espressione più limpida cioè il fatto che questo governo abbia tre partiti di ispirazione proprio dichiaratamente nazionalista ad alcuni anche con carattere religioso che quindi accampano pretese di carattere biblico apertamente sulla sulla cosiddetta terra santa è un sintomo piuttosto inquietante la crescente presa che gli ultraortodossi hanno sulla sulla vita politica anche un peso demografico perché tutte le agevolazioni fiscali di cui sono stati beneficiari nel corso degli anni ha sovvertito l'equilibrio interno in Israele e li ha resi sempre più numerosi sempre più numerosi demograficamente presenti e politicamente influenti sono cose che si sposano tra di loro naturalmente tutto questo non depone a favore di Israele perché l'isolamento del paese a livello regionale è enormemente accresciuto e ai rapporti con alcuni partner chiave come la Russia si stanno lavorando rapidamente potranno continueranno a fare affidamento sugli Stati Uniti ma quanto potrà durare questo appoggio incondizionato degli Stati Uniti Israele perché tutto questo come dicevamo prima ha un costo quindi o gli Stati Uniti recupereranno una capacità di dissuasione nei confronti di Israele di condizionamento di Israele se gli Stati Uniti riusciranno a invertire questo rapporto di condizionamento che è il più piccolo sul più grande attualmente forse qualcosa si riuscirà ad ottenere in essenza di tutto questo mi pare che la perdita di controllo da parte della leadership israeliana sia un pessimo segnale e possa portare a conseguenze pericolosissime non soltanto per il Medio Oriente per il Medio Oriente è una ragione chiave per tutti gli equilibri mondiali lo sappiamo noi come lo sanno tutti quindi in pratica sta dicendo che l'opzione escalation sicuramente non è scartata io credo che Netanyahu e chi gli sta vicino abbiano pensato di trascinare gli Stati Uniti in un allargamento del conflitto perché questo avrebbe permesso da un lato di fare regolare i conti con Hezbollah perché da soli probabilmente non hanno la possibilità di farlo trasferire i palestinesi al di fuori del perimetro che loro ritengono essere i confini di Israele e magari regolare anche i conti con l'Iran questo peraltro consentirebbe anche Netanyahu di recuperare un po' di credibilità e magari gli permetterebbe di continuare di portare avanti la sua carriera politica che altrimenti la vedo fortemente in dubbio per usare un eufemismo cioè praticamente stai dicendo Netanyahu dal suo punto di vista personale è costretto in un certo senso a creare i presupposti per allargare il conflitto per non soccombere a livello personale allargarlo e allungarlo nel tempo magari in prossimità delle elezioni statunitensi quando il peso delle lobby diventa più più vistoso e più determinante in un'ottica di indirizzo degli esiti delle elezioni certo quindi alla fine possiamo dire che sia per il conflitto in Ucraina che per il conflitto israelo-palestinese c'è la scadenza come l'avete anche più volte detto in questa nostra intervista la scadenza e l'orizzonte delle elezioni americane a novembre 2024 giusto fra un anno avrà un peso determinante volevo aggiungere solo una cosa vedo un ostacolo insormontabile su questa scia cioè il fatto che gli Stati Uniti riescano a recuperare un minimo di capacità di limitare quantomeno Israele dà un fatto tra gli Stati Uniti Israele si è venuta a creare ormai una classe dirigente comune per i cittadini soprattutto neoconservatori che hanno la doppia cittadinanza cioè sono cittadini sia statunitensi che israeliani una classe dirigente quindi affine che molto difficilmente la vedo disposta a separare i destini di uno dall'altro sono molto inclini a legare il destino degli Stati Uniti con quello di Israele e tutto questo naturalmente si traduce in politica come quelle che stanno portando avanti e purtroppo i neoconservatori da diverso tempo a questa parte hanno acquisito il controllo sostanziale della politica estera degli Stati Uniti Chiarissimo questo commento Anie hai un commento proprio in estrema sintesi finale Giacomo lasciamo l'ultima parola a Danie visto che è ospite mentre Giacomo è nostro diciamo presenza fissa apprezzatissima da più di un anno e mezzo lasciamo una proprio una sintesi chiusura a Danie Sì diciamo che io sono d'accordo sul fatto che prima o poi si arriverà a una escalation vera e propria perché non c'è altra scelta nel senso che la situazione è tale che prima o poi questo succederà non credo però ecco che succederà a breve termine diciamo ci sono perché comunque ci sono tutta una serie di cambiamenti a livello comunque di equilibri equilibri globali quindi bisogna un attimo vedere come si si svilupperà la situazione però prima o poi temo che purtroppo un escalation sarà inevitabile sarà inevitabile la valuteremo la seguiremo passo passo come facciamo sempre qui al vaso di Pandora se questa intervista ti è stata utile per aumentare il tuo grado di informazione e riconosci al nostro lavoro un valore allora supportaci con la tua donazione o abbonati al nostro canale puoi fare un bonifico bancario libero oppure puoi abbonarti al vaso di Pandora tramite la piattaforma Patreon abbonandoti avrai anche accesso a contenuti extra in esclusiva per te nel testo qui sotto trovi i link per scegliere quali delle due modalità preferisci il nostro canale ti ricordo è demonetizzato da YouTube da quasi tre anni e pertanto ricordati che il tuo supporto è fondamentale per far esistere e devolvere il vaso di Pandora siamo con questo veramente in conclusione io ringrazio molto Anie Tarchiani in collegamento dall'Iran grazie grazie ricordo docente di studi islamici osservatori tematiche geopolitiche e grazie ovviamente a Giacomo Gabellini grazie e ricordo sempre il suo bellissimo canale di approfondimento il canale YouTube il contesto iscrivetevi grazie grazie a tutti voi grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a tutti